Natale è alle porte e Betlemme, la città dove è nato Gesù, si appresta ad accogliere le migliaia di fedeli provenienti da tutte le parti del mondo. Le vie e le piatte della città si stanno vestendo da festa. Gli alberghi, dopo alcuni anni, sono al completo e l'amministrazione comunale e l'autorità palestinese stanno facendo il possibile per rendere la città più accogliente. Al Betlem Peace Center è allestito un grande mercatino di Natale dove si possono comprare oggettini per fare dei regali. Anche a Bezzauro la parrocchia ha preparato un ricco bazar dove si può trovare di tutto, dai libri alle statuette per il presepe, dai dolci ai giocattoli, oltre a numerosi prodotti locali. All'inaugurazione è intervenuto Monsignor William Schomali, vescovo ausiliare del patriarcato latino. Eccellenza, il Natale è ormai alle porte. Cosa può dire ai fedeli? Dico ai fedeli di ricevere la gioia di Cristo nel cuore, perché la gioia di Cristo non dipende dalle circostanze, dipende dalla disposizione interiore. Il Signore ci vuole bene e le sue promesse sono sempre fedeli, ci darà la pace, ci darà la sicurezza e per il momento ci darà la pace del cuore e la gioia del cuore. Dico abbiate fiducia e crediate in Lui. La gioia di Bati è una cosa fucked, è la cosa c'è la cosa c'è la cosa c'è la base. Grazie a tutti.